Ciao, ti chiedo quali sono state secondo te le difficoltà che avete incontrato nel primo tempo, grazie. Salve buonasera, sapevamo che era una partita tosta, che comunque diciamo che era un scontro diretto, loro sono in nata la classifica, noi dovevamo per forza cercare di vincere la partita a tutti i costi, alla fine abbiamo preso il gol lì, però la squadra secondo me ha ribaltato, però siamo riusciti a fare questo pareggio e per poco non riusciamo anche a vincere la partita. Ciao Raider, Alessio Torsori per ACPerugia.com, come dicevamo appunto una partita dal doppio volto, il primo tempo un po' contratto il Perugia, meglio la Carrarese che poi era passata in vantaggio per prima su una defaianza difensiva, per fortuna il tuo gol che ha messo a posto le cose, il secondo tempo è stato decisamente migliore, peccato poi con la traversa che poi ancora traballa probabilmente. Sì, sì, sono d'accordo con te, però comunque sapevamo che era una squadra tosta, difficile, comunque abbiamo la pressione pure qua di vincere, che quando gioca solo per il risultato di vittoria e quando magari prende il gol non è facile, però abbiamo ribaltato, il secondo tempo siamo stati più offensivi, abbiamo avuto un po' più di occasioni di loro, anche la traversa lì di Ricci, però ora è pensare in avanti, dobbiamo più stare a pensare molto e la prossima partita dobbiamo vincere per forza, non c'è altro risultato. Ciao Raider, buonasera, Carlo Forci di Corriere dell'Umbria. Hai segnato un gol tra virgolette casuale, fortunoso, però hai segnato. Quanto cercavi questo gol, se lo ricercavi particolarmente e quanto ti senti a livello di condizione, quanto ti senti vicino al top o comunque se sei al top vorrei una tua considerazione? No, certo, l'ho cercato, questo gol, sono contento di aver aiutato la squadra, comunque era un momento delicato della partita, stavamo perdendo comunque in casa e sono molto contento, peccato che non abbiamo fatto la vittoria, però io sono uno che se c'è da fare un assist, di fare una giocata, lo faccio e sono contento uguale. Sì, no, sto bene, sto bene fisicamente, non ho avuto più nessun problema fisico, mi sto allenando tutti i giorni e cerco sempre, quando il mister mi mette in campo, di dare il massimo. Ciao Raider, Antonio Caravella, Assia, agenzia Stampa Italia, Tifio Grifo. Che è successo alla fine del primo tempo? Qualcosa hai avuto a che dire con, credo, con qualche giocatore o con il terzino loro, se non sbaglio? Sì, secondo me mi è entrato un po' con cattiveria lì, nel fondo la latta laterale, mi ha detto un po' di cose, mi rideva un po', mi prendeva, secondo me era una giocata sporica lì che potevo farmi male e l'ho detto poi alla fine lì, ho detto qualche parola a lui. Senti, un gioco sicuramente anche qualche volta troppo aggressivo da parte della camera, forse manca qualche cartellino giallo che sicuramente avrebbe, no? Sì, io ci penso a questo pure, sì, secondo me sono stati aggressivi loro e secondo me anche questa cosa, non mi piace molto parlare di questa cosa, ma anche il fatto del rigore, che un giocatore alza la mano e tocca per me è rigore netto, comunque era una partita 0-0, magari avevamo un'occasione del rigore lì, cambiava la partita, cambia se andiamo in vantaggio, poi magari non si sa mai, però andare in vantaggio in casa comunque era, poteva essere importante. Senti, quali sono le maggiori difficoltà che sta incontrando in questo momento il Perugia? Dov'è, diciamo, la partita, dov'è che dovete lavorare di più? Ma secondo me in tutti gli aspetti, perché dobbiamo fare più gol, il centrocampo imbucare di più, è un po' tutti, quando le cose vanno male, vanno male per tutti, quindi secondo me non c'è un punto solo, è tutto un insieme, ognuno deve cercare di fare di più, cercare, però secondo me l'impegno, tutti stiamo dando l'impegno, non c'è nessuno che dice quello lì non cuore, non dà il massimo, poi ci sono gli errori che si cambiano, un giorno è l'attacco, un giorno è il centro campo, un giorno è la difesa, però la squadra si impegna al massimo, questo posso garantire. Questo è importante, cominciare a vincere perché altrimenti si allunga il gap con le prime... No, certo, come l'ho detto, la partita, la prossima partita dobbiamo vincere per forza, non c'è altro risultato, se vogliamo ambire quelle posizioni in alto dobbiamo vincere. Per poi arrivare con lo scontro diretto con il Cesena in condizioni sicuramente classifiche migliori, no? No, infatti siamo d'accordo, eravamo dispiaciuti per il pareggio, però è pensare in avanti, cercare di migliorare ognuno, vedere quello che deve cercare di migliorare in allenamento per arrivare in partita e vincere, che è quello che tutti vogliamo. Grazie.